Buon pomeriggio ragazzi, qui è Alessandro di Social Media Ex Italia, benvenuti in questo quinto episodio della rubrica Instagram per principianti e l'argomento di oggi è un argomento che va a spiegare qual è la differenza tra eliminare un post ed archiviare un post. La differenza sostanziale è molto semplice, nel primo caso vado completamente ad eliminare un determinato post e quello non sarà più accessibile, quindi sarà completamente eliminato dalla piattaforma, mentre l'archiviazione di un post è un qualcosa che noi andremo a nascondere ai nostri follower e sulla nostra pagina profilo, quindi non lo vedremo direttamente nelle nostre colonne diciamo, però sarà accessibile attraverso appunto l'archivio dei post. Qual è la sostanziale differenza tra l'eliminazione e l'archivio a livello di algoritmo? A livello di algoritmo qualsiasi cosa noi andiamo a fare che va ad eliminare un qualcosa presente sulla piattaforma, quindi che sia un'eliminazione di un commento, che sia l'eliminazione di un follower, che sia appunto l'eliminazione di un post, potrebbe andare a causare dei danni, quindi per questo si raccomanda l'archivio di un post invece della sua eliminazione stessa. Quindi il risultato per i nostri follower è praticamente lo stesso, ok, però non andiamo ad arreccare danni all'algoritmo, quindi qualora voi voleste eliminare tra virgolette un post non andremo a far altro che aprirlo, quindi andare nelle impostazioni del post e invece che scegliere elimina andremo a fare archivia. Quindi il post scompare, quindi non è presente e non è visibile ai follower, però lo possiamo trovare, eccolo qua, nell'archivio dei post, quindi questo post non riceverà più like, non riceverà più nessun tipo di engagement, però non andrà ad arrecare danni all'algoritmo e sarete anche in grado eventualmente di riproporlo e di reinserirlo nel vostro profilo qualora insomma voleste eseguire questo tipo di azione. Quindi oggi video davvero davvero molto semplice e ci vediamo al prossimo episodio la settimana prossima. Ciao ragazzi!